Un tavolo tecnico per illustrare nel dettaglio ai sindaci del Marghi nel progetto allo studio per la tratta ferroviaria a scartamento ordinario Nuoro a Basanta che collegherebbe il capoluogo alla dorsale ferroviaria Sarda, alla luce degli incontri che si sono succeduti dallo scorso 2 agosto e che da settembre, per volere del ministro dei trasporti Salvini, sono sotto la regia del prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi. L'incontro si è tenuto questa mattina alla presenza da remoto di RFI e della regione e in presenza dei sindaci del Marghi che negli ultimi giorni hanno espresso preoccupazione per il nuovo studio. Secondo loro questo contrasta con la mozione passata nell'ottobre 2022 in regione che prevedeva il potenziamento della Nuoro a Macomer attraverso la cessione da parte della regione della tratta da Arsta RFI cessione che la regione non ha mai messo in atto. Da noi c'è la tratta storica che la Macomer va a portare a Nuoro, che lambisce tutti i nostri paesi insomma se viene meno il progetto invece di riqualificazione della vecchia ma come il Nuoro a favore di un'altra strada ferrata ex novo sarebbe per noi veramente un guaio alla fine di tutto. Quindi la ferrovia è un diritto acquisito che va implementato, che va migliorato e che ci deve rendere al passo con i tempi. Timori davanti ai quali il prefetto Dionisi lancia rassicurazioni. La Nuoro a Basanta costituirebbe un'opportunità in più per il territorio e non è escluso a priori un potenziamento della Nuoro a Macomer. I tecnici di RFI, di Ferrovie Italiane, che sono intervenuti a questa riunione hanno spiegato ai sindaci del Margine che la soluzione prioritariamente che loro stanno seguendo, stanno studiando, è quella di creare una nuova linea da Nuoro a Basanta perché tecnicamente sembra loro la migliore da un punto di vista tecnico e da un punto di vista economico. Però tra le alternative possibili, ove questa soluzione tecnica non si potesse fare quindi ove non si potesse fare la Nuoro a Basanta tra le alternative c'è sicuramente un'ipotesi di adeguamento della rete ferroviaria che attualmente collega Nuoro a Macomer.